Il tragico femminicidio di Melania Rea, perpetrato dal marito Salvatore Parolisi nell'aprile 2011, è un evento che ha lasciato un'impronta indelebile nella memoria di tutti noi. Recentemente, un annuncio straziante riguardante la madre di Melania ha suscitato ulteriore commozione. Prima di procedere, vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Melania, una giovane di 29 anni dal sorriso radioso, è stata vittima di un omicidio che ha scosso l'opinione pubblica. Suo marito Parolisi è stato condannato a 20 anni di reclusione e l'omicidio di Melania è rimasto uno dei più efferati nella cronaca nera italiana. Parolisi rimane in carcere, proclamandosi innocente. In un'intervista alla stampa, la madre di Melania ha condiviso il suo dolore per la perdita della figlia e la responsabilità di crescere la nipote Vittoria, oggi tredicenne. La nonna di Vittoria ha sottolineato quanto occorrano coraggio, forza e resilienza per affrontare una tragedia di tale portata. Ha dichiarato che, nonostante il suo cuore sia ancora in lutto per la morte di sua figlia, ha dovuto trovare la forza necessaria per il bene di Vittoria. La famiglia Rea ha affrontato le conseguenze di questa perdita traumatica con il supporto di professionisti, tra cui psicologi e assistenti sociali. È stato consigliato loro di parlare apertamente con Vittoria, che ha gradualmente maturato una consapevolezza della terribile verità riguardo a sua madre. La giovane Vittoria è descritta come una ragazza serena e studiosa che frequenta il primo anno di liceo scientifico. Ambisce a diventare magistrato, schierandosi dalla parte delle donne. Se desiderate esprimere un messaggio di vicinanza a questa coraggiosa mamma e nonna, sentitevi liberi di farlo nei commenti. Vi incoraggiamo anche ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video.